La zona territoriale di Senigallia ha deciso di fare un'iniziativa insieme all'Associazione dei Dentisti Italiani. Che cosa prevede questa iniziativa? Prevede che per 5 prestazioni che sono le più diffuse per l'odontoiatria ci sono delle tariffe prestabilite fisse e fortemente scontate. Per alcune prestazioni lo sconto arriva addirittura al 50%, quindi si tratta di un'iniziativa importante. Possono accedere tutti a queste prestazioni? No, possono solo accedere quei soggetti che hanno un reddito molto basso, cioè inferiore ai 10.000 euro di ISEE, per esempio una famiglia con una sola persona che lavora con un reddito che non supera i 30.000 euro, questa è la sostanza della cosa. Oppure possono anche accedere bambini inferiori ai 12 anni oppure donne incinta per alcune prestazioni. Noi pensiamo che con questa iniziativa, e devo ringraziare i medici che hanno addirittura a questa zona che sono 16, i medici dentisti, noi pensiamo che con questa iniziativa riusciamo a far accedere alle prestazioni odontoiatriche quelle fasce di popolazione che oggi per scarsa disponibilità di reito non vanno dal dentista. Quindi in questo modo permettiamo di accedere al dentista e quindi permettiamo loro di avere una bocca sana ma anche una qualità della vita più elevata e più importante.